Resta alto l'allarme siringhe abbandonate nella pineta dell'acqua rossa ad Ostia. Come segnalato più volte, un albero caduto a terra nei pressi dell'ingresso situato in via delle Azzorre viene utilizzato come nascondiglio per drogarsi e tra la vegetazione ci sono decine di aghi usati. Uno scenario desolante con il quale i fruitori del polmone verde sono costretti a fare i conti. Alle scuole acque rosse porto mio nipote e dopodiché cammino nella pineta. Tranne che le siringhe, qualche bottiglia, c'è anche una discarica abusiva, non so se avete visto. Anche quella è una zona pericolosa perché ci vanno bambini con le biciclette, noi anziani a passeggiare. Siamo abbandonati. Ma spesso non serve recarsi in punti nascosti e poco trafficati. Anche in Piazza Rendina, a pochi passi dal lungomare Duca degli Abruzzi, i cittadini sono costretti a fare lo slalom tra le siringhe usate e abbandonate a terra accanto alle auto in sosta. Questa è una via molto frequentata da mamme con passeggini, con bambini che vanno sia al mare che a un punto di soccorso. Spesso ci sono siringhe, bottiglie. Poi è stato transennato e non si capisce perché, poi è una transenna così abbandonata a sé. Quindi questa questione delle siringhe non fa stare tranquillo chi vive qui? Non penso proprio perché, come ripeto, qui ci passano mamme e bambini anche da soli che vanno al mare. Pericoloso. Vedo che ha anche un cagnolino. Sì, no, no, ma io infatti sto, dico quella, non la frequento quella strada, non ci passo quasi mai. Altrove non ne ho viste onestamente. Inoltre i due scambiatori di siringhe posizionati in Piazza Grippa e danneggiati nei mesi scorsi non sono stati ancora riparati. Il comitato cittadino stia ponente, come vi avevamo raccontato in un nostro servizio, si era subito adoperato per segnalare la pericolosità della situazione, ma almeno per il momento non sono stati effettuati interventi per il ripristino dei macchinari.